In questo video capirai perché la Cina, la seconda economia del mondo, è un mercato che non può ignorare se vuoi sviluppare un business florido. Sono Gianni Vacca, Chief Operation Officer di Oshimu Il Bailyu, la divisione 1816 che ha sede a Shanghai. Di cosa ci occupiamo nel Far East? Partendo dalla strategia disegnata nella casa madre italiana, coordiniamo in Cina diversi servizi di supporto e sviluppo, di marketing e di vendita. Vediamo i principali. Il supporto legale per proteggere il proprio marchio e tutelare con contratti in cinese importazioni ed esportazioni in un mercato dove tutto viene pagato in anticipo. La selezione di manager expat. Avere un manager di riferimento in Cina e sceglierlo con uno strumento oggettivo è fondamentale. Gli audit fornitori. Significa valutare con sopralluoghi i fornitori prima di appoggiarsi a loro a tratti esclusivamente dal prezzo. Questo approccio diretto e locale vale anche per rivenditori e possibili clienti. Tutto questo viene sviluppato attraverso il nostro personale locale e internazionale e soprattutto grazie alle guanshi, le relazioni costruite con partner affidabili che operano in Cina con profitto da anni. Pazienza e perseveranza sono due doti essenziali per chi pensa oggi alla Cina ma non bastano. Serve una visione strategica, una prospettiva temporale e un budget adeguato ad affrontare un mercato così innovativo, differente e al tempo stesso ricco di opportunità. Noi ci siamo in Italia, in Svizzera e ovviamente in Cina. Non ti resta che contattarci al link qui sotto.